Io ho fatto il pasticcerio, lo sapete perché? Sono caduto in una vasca di crema al cioccolato da poco fatta. Il mio bagno fu storico per me, è stata la mia fortuna. La pasticceria è sempre stata un po' la nostra vita, ma sono partita proprio dal basso, perché mio padre mi ha messo ovviamente alla prova. Sono partita dal magazzino per poi iniziare l'ascesa, piano piano. Se vuoi avere i risultati devi lavorare solo. Senza la conoscenza non vai da nessuna parte, non fai altro che replicare. Il mio mestiere lo amo, lo amo perché mi ha dato tutto quello che volevo. Fino adesso mi sono divertito e spero di divertirmi ancora. Migliorate voi stessi, perciò partecipate a questi corsi.